Perché sui libri delle volte trovi la pubblicità, che serve per vendere, che ne so, quella marca di zirconia, oppure che serve per vendere quel tipo di resina, oppure che serve per spingere quella pinza che unisce il titanio e quindi fai la barra unita, ma non ti dice che se unisci i perni con un filo di titanio, se il titanio non è passivo, poi gli sviti i perni, fa così. E poi non torna nei conti, in laboratorio. Prendi un filo interdentale, unisci i perni, metti resina, la polimerizzi, la fa indurire, sviti e passiva. Costo? Un euro, manco, esagerato. Ci sono delle cose pratiche che costano molto meno e sono molto più precise, cose costose che servono solo a vendere gli apparecchiature o a far allegarti all'azienda così gli compri i consumabili. I materiali di consumo. Io quelle cose le odio, nel senso io vado da chi le fa, le cose gli chiedo, funziona o non funziona. Mi propongo una cosa nuova, ne chiamo altri dieci che l'hanno già comprata, quelle gli chiedo, vale o non vale. Mi fai vedere i risultati che hai ottenuto, mi fai vedere i difetti, chiedo invece a chi la vende. Difetti non ce n'è, è impossibile, tutti i materiali hanno difetti. Voglio che mi fai l'elenco dei difetti, perché poi se un materiale è difettoso come lo zirconio, lo zirconio è come il vetro, qual è il difetto del vetro? Scheggia. Scheggia, ed è? È flessibile il vetro? No. Se ti poggia un vetro lo spacchi. Tu immaginati un osso, umano, un femore, fai la replica di un femore di vetro e li unisci tra loro e fletti, quale si rompe? Allora, supponi che comunque, però, qual è il pregio dello zirconio? Che bello da vedere. Allora cosa faccio? Separo i denti, faccio come le linee tagliafuoco delle montagne, no? Creo già i punti di rottura, creo, tre, quattro blocchi, denti singoli, così ho lo zirconio che è sostenuto da cose che invece flette del resistente, titanio. Per esempio, è bello da vedere non fare mai i denti, quindi sfrutto le proprietà positive di uno unite a quelle di un altro. Cosa che manca, però, che vi ho detto prima? L'elastico, l'elasticità. Metto allora tra i denti e la barra in titanio un materiale stress assorbente, che può essere il pecton, per esempio. Un polimero che ammortizza gli stress che si usa da vent'anni in ortopedia al pecton, si mette nelle protesi, ci ricostruiscono le calote craniche, per esempio, quando operano, mettono la parte che manca in, la possono fare in titanio, oppure lo possono fare in pecton. Il pecton è più leggero, più flessibile, ha lo stesso modulo di elasticità dell'osso umano. E quindi posso fare che cosa? Delle protesi multimateriale. Do la gengiva, come la simulo, la parte rosa che c'è a monitor, col composito. Il composito è una sorta di resina riempita con parti di vetro. Immersa, e quindi ho la stessa resistenza quasi della zirconio, però è molto più flessibile, ma posso usare i colori. Cosa che nello zirconio, si può fare, ci sono i colori per lo zirconio, ma l'unico problema dello zirconio è che non si può ribasare. Qua se la gengiva si ritira, io la gengiva posso aggiungere. Posso in quello spazio mettere altro composito e ribaso, riallineo la protesi con l'osso che si può modificare negli anni. E questo è un altro grosso difetto delle protesi artificiali, ve ne ho detto un altro, il fatto che non solo sono rigide, ma sono statiche. Invece il nostro organismo non è uguale a come eravamo a vent'anni, tutto si modifica. Quindi ho delle protesi che rimarranno tali e quali, e si è visto benissimo in una foto che c'era prima qua, dove c'erano le due bocche messe a confronto, ora me la sono persa, la slide comunque, eccola qua. Le gengive si sono ritirate, sono successe tante cose nella bocca, ma i denti sono rimasti uguali. Ma le lievate si sono scheggiate un po' qua. Ma non seguono il profilo della gengiva, quindi serve creare delle protesi che si possono modificare su quel versante.